Ad ogni singolo giro di Play Lover Underground le persone ci chiedono le frasi, quindi ecco la rivelazione fatale. Voglio darti questo elenco, incredibilmente valido, di cosa scrivere ad una ragazza in situazioni specifiche, ma precisando che queste sono solo delle linee guida. Non c'è infatti un metodo assoluto che funzioni al 100%, perché ogni ragazza è diversa, come pure ognuno di voi. È importante mantenere l'attrazione in corso e per conservare l'interesse devi sfidarla, prenderla in giro, essere misterioso, essere difficile da ottenere, dominante. Premesso ciò, iniziamo. 1. Riesci a mantenere un segreto? Naturalmente quando mandi un messaggio come questo ad una ragazza, sarà curiosa. Lei dirà sì e chiederà perché. Dopodiché dirai, non dirlo a nessuno, ma l'altro giorno ho incontrato questa ragazza follemente carina. Il suo nome è... nome della ragazza alla quale stai scrivendo. Era un peccato però che non fosse molto alta. Questo è un ottimo esempio di cosa mandare ad una ragazza? Se vuoi prenderla ironicamente e leggermente in giro. Ovviamente funziona se si tratta di una ragazza con altezza nella norma, altrimenti potrebbe sfociare in un'offesa e ti converrà cambiare battuta, puntando ad un altro aspetto della sua fisicità, sul quale poter ironizzare. Non fare quella faccia strana mentre mi ascolti! Questo messaggio funziona! Sarai infatti uno dei pochi ragazzi che non risulterai impressionato dall'aspetto estetico di una ragazza attraente. E se ancora non mi credi, allora andrò avanti e ti dirò che i ragazzi difficili da impressionare sono attraenti per le ragazze. E fare un commento del genere fa sicuramente arrivare il messaggio che sei uno sgamato. 2. Ho questo nuovo numero nel mio telefono ma non so a chi appartiene. Questo funziona bene per gli stessi motivi che ti ha sposto poc'anzi. Il messaggio sottintende che non stai scrivendo a lei perché si tratta proprio di lei, ma perché vuoi sapere a chi appartiene quel numero, in quanto non ti sei ricordato di salvarlo. Sottinteso, non ti sei ricordato troppo di lei dopo averla conosciuta. Rosicherà per questo e cercherà di farsi ricordare durante il prossimo appuntamento. 3. Sai cosa? In realtà sei la prima ragazza incontrata che non mi sta perseguitando con i messaggi, dopo solo un giorno. Fidati, non lo dico per fare il ganzo. Bensì, spesso neanche io me lo spiego come mai succeda proprio a me. Perché non sono Brad Pitt, ma capita che se faccio presa su una tipa una sera, dal giorno dopo difficilmente me la stacco di dosso. Sarà perché mi vedono affidabile e non un morto di F. Invece di far sapere direttamente ad una ragazza che sei un ragazzo difficile, facendo un commento rozzo, le stai indirettamente facendo sapere che sei Mr. Right, ma con eleganza e un pizzico di autoironia.